Siamo all'hotel della Villa di Avellino, uno splendido scenario come potrete vedere. Fratelli d'Italia sta presentando i quattro candidati irpini alle elezioni regionali. Si tratta di Alessia Castiglione, di Colucci, Giovanni D'Ercole e Sorrentino. C'è anche l'ex presidente della regione Campania, Stefano Caldoro. Per lui è un vero e proprio tour de force in Irpini. Infatti oggi sarà impegnato in diverse tappe in provincia di Avellino. Noi, prima dell'inizio della conferenza stampa, lo abbiamo ascoltato. Dobbiamo convincere e non avere atteggiamenti padronali come vuole fare il nostro avversario che pensa di venire in Irpini e comandare con i salernitani. Vedete che tenta di occupare ogni spazio, avidamente vuole occupare l'Irpinia. Noi invece abbiamo una scelta di libertà, una scelta dei partiti politici nazionali, non queste strane liste che non si capisce se sono civiche di territorio. La verità sono solo per garantire qualche poltrona a qualche politico di turno che passa da una parte all'altra solo per avere il seggio. L'iniziativa di riconversione, di recupero di Flumeri è venuta con me. Lui non ha fatto nulla. Azioni burocratiche, amministrative, continuando quello che ho fatto io. Poi dice che, oppure per esempio avete visto l'acquisto degli autobus piuttosto che iniziative su gli investimenti nei comuni, erano tutte legate all'accelerazione della spesa. Ma se voi ascoltate un sindaco, chiamate un sindaco della provincia di Avellino e gli chiedete, ma con Caldoro cosa hai avuto? E loro tirano gli investimenti, la famosa accelerazione della spesa che tutti i sindaci ricordano. E gli chiedete, ma con De Luca avete avuto? Nulla, vi risponderà. Io non ho mai chiuso nessun ospedale, come è noto. Mi dispiace che si fa questa domanda sapendo che non è vera. Bisaccio è stata chiusa da Bassolino e da De Luca, 2009. Vi domandate perché qui si pagano le prestazioni, arrivato a un certo punto i cittadini si devono pagare le prestazioni e a Salerno invece questo non avviene? Perché ha spostato soldi dall'Irpinia, dalla Sanità Irpinia, alla Sanità Salernità. Ho visto quella piazza di giovani irpini, ragazzi che sono stati rimproverati perché erano tutti lì in assembramento e avevano avuto solamente l'orgoglio di fare una roba che spesso i giovani fanno, che saltano e dicono chi non è salernitano. No, vi ricordate quella scelta? Che era una scelta di orgoglio irpino. È stata vista come un'azione di accusa. Perché non prende dalla parte giovanile anche un sentimento? Quei giovani non è che volevano fare un attacco violento contro qualcuno, non volevano rappresentare una forma di tifoseria. In Irpinia insomma la si è vista molto poco in questi cinque anni. Ma guardi, io vengo in silenzio, ma sono venuto tante volte in Irpinia. Non uso gran cassa. Poi voglio sapere questo signore quando è venuto in Irpinia, questo salernitano. Pochissimo, quasi mai visto. Io sono venuto molto più spesso. Io feci un conteggio sull'Irpinia e su Benevento. Qualcuno mi aveva detto le cose che dice lei. Ho pubblicato su mia pagina Facebook tutte le volte che da Presidente sono venuto a Benevento e ad Avellino. Cinque volte di più dell'attuale Presidente. E anche molto di più di Bassolino in dieci anni. Il Covid è come la guerra. Cambia la paura. Cambia il sentimento. E ci può essere uno che bleffa, che imbroglia e si presenta come l'eroe di guerra. E poi scopriremo che era in fureria. Non ha fatto la guerra. Quando si scoprirà che questo signore, la guerra non l'ha fatta, che era chiuso nel bunker di Salerno, non è mai uscito per paura, con cinque mascherine. Lui aveva delle mascherine che non aveva neanche un medico o un infermiere in quel momento. E aveva solo lui quelle mascherine. Vi ricordate quelle mascherine, quei video? E lui era chiuso in un bunker televisivo, non è mai uscito da lì. Che si apra un'impresa a Nusco e in Alti Irpinia è una cosa positiva. Questi sono assolutamente tutti segnali positivi e sono quella politica della centralità delle aree interne che ho ricordato prima, delle strategie che abbiamo messo in campo. Questo è frutto di quelle strategie.